Ciao a tutti sono Sissi, bentornati sul canale, buon 2024, bentornati, anch'io sono tornata dopo subito una pausa da inizio anno per l'influenza, sono ancora un pochino in convalescenza, infatti ho ancora un po' di tosse, cercherò di non tossire in questo video o perlomeno fare dei tagli, non lo so quanto riuscirò a parlare, è stata molto dura, è stata molto tosta, quindi chi si è ammalato lo sa, chi non si è ammalato vi auguro di non prendere questa influenza perché veramente è tosta, soprattutto per la tosse, le vie aeree e la febbre, niente quindi siamo qui oggi perché cosa? Ritorniamo con la discussione più disagevole e cringe dell'anno, quali sono i buoni propositi del 2024? Che poi io qua scritti in verde speranza ho fatto dei macro argomenti che andremo a trattare, tra l'altro volevo farvi vedere, guardate che bello questa Carpacoi che era disegnata appunto nel mio libretto, nel mio quadernino, che questi sono i quadernini di Lidl, questi qua i miei momenti preferiti che tra l'altro nel 2023, quindi l'anno scorso, che è stato tipo l'altro ieri, non sono usciti, non lo so, ho perso io il volantino, perché con Lidl purtroppo la cosa che bisogna fare è stare dietro i volantini tutte le settimane, quindi quella dell'anno scorso non sono riuscita a prenderla, quindi questa è una delle vecchie dizioni, però mi piace molto per scrivere i miei pensieri quando faccio i video e fare queste cose, appunto ho fatto una lista di buoni propositi, che noi non chiameremo buoni propositi perché buoni propositi, i propositi hanno stufato, ok? Sono un po' dei suggerimenti, che cosa mi piacerebbe migliorare per questo 2024? perché poi io non so voi, ma a me i propositi poi mi stanno un po' stretti, nel senso che poi vado sotto pressione, io sono una persona che sotto pressione non performo, cioè do proprio forfè, ci sono, voi lo saprete come siete, ci sono persone che lavorano bene sotto stress, sotto pressione, io invece proprio sotto pressione do forfè, quindi non voglio, non voglio caricarmi di troppe pressioni, ma ho segnato qui, oggi faremo un po' un discorso in generale, ho segnato qui quelli che ho chiamato buoni propositi, ma in realtà sono un po' dei suggerimenti di come vorrei che vada il mio 2024 per queste macro, per queste macro argomenti. Prima di incominciare però, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché mi aiutate tantissimo, l'obiettivo è sempre quello di arrivare ai 3000 iscritti il prima possibile, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un like di supporto molto molto importante e sentiamoci qua sotto nei commenti, fatemi sapere se vi ritrovate un pochino con i miei suggerimenti e fatemi sapere a grandi linee che cosa volete migliorare voi della vostra vita per questo 2024, se magari vi augurate qualcosa tantissimo, ok? Che deve succedere. Dunque, io la prima, cominciamo subito, la prima cosa è che questo non è assolutamente un suggerimento, ma è tassativo e sono già sotto pressione, è il punto croce, il punto croce cruciale, punto croce cruciale l'ho proprio chiamato, perché sta diventando proprio un cruccio, ho proprio una scadenza che è più o meno metà aprile del 2024, perché sto facendo un lavoretto per un bambino che deve nascere della mia migliore amica e quanto mai mi sono messa a fare questa cosa, perché adesso la devo portare a termine, ce la farò io credo nelle mie capacità, però è una cosa che veramente mi sta portando via un sacco di tempo, cioè io tutte le mie ore libere la sera che sono a casa mi sono a fare il punto croce, e voi non potete capire quanto tempo ci si mette a ricamare. Allora, vi faccio vedere i progressi, questo dovrebbe essere un riccio, tutto con i fiorellini dentro, tutto bello colorato, sto facendo tutto il contorno bianco, poi contate che se non avete mai fatto il punto croce, non l'ho mai fatto manco io, è la prima volta da quando ho sei anni che faccio il punto croce, dopo una volta che è finito, che è tutto ricamato con i colori che ci sono nel kit eccetera, questa tela va in acqua e poi il colore sotto dovrebbe andare via, dovrebbe andare via e rimanere solamente il ricamato, quindi non spaventatevi se sotto il bianco vedete i quadretti o un po' di giallo, perché poi dopo una volta finito tutto va lavato e va lasciato in ammollo, e questi colori che sono colori credo acquasolubili, water solution andranno via, quindi sto facendo per ora tutto il contorno, tutto il bianco, quando ve l'avevo fatto vedere nei vlogmas mi pare che avevo fatto solamente le prime due righe forse, poi vabbè ci sono state le feste, mi sono ammalata eccetera, adesso sto riprendendo attivamente, ma per fare un quadratino o due quadratini ci vogliono, cioè veramente ci metto le serate intere, poi a me piace lavorare alla sera dopo cena con il punto croce, quindi io dopo cena almeno fino alle undici e mezza, mezzanotte sono a lavorare al punto croce, intanto che sotto ho qualche serie tv o meglio qualche podcast da ascoltare, e vado di lavoro, questo è veramente, me lo sono insegnato per primo perché è l'unica cosa che ho veramente una scadenza, ed è, cioè non è un buon proposito, ho un dovere, è un obbligo ed è tastativo, che lo devo finire per appunto aprile, mi sono data un po', mi sono data come tempistiche di finire tutto il bianco, quindi tutto il contorno entro fine gennaio, per fortuna che gennaio è un mese con 180 mila giorni, quindi siamo solo all'inizio, potrei anche farcela, quindi mi sono data come scadenza di finire tutto il contorno per fine gennaio, e poi lasciarmi febbraio e marzo per fare tutto il dentro che è la parte molto molto intricata, quindi due mesi poi per fare tutta la parte intricata, se finisco prima ancora meglio, quindi questa è l'unica cosa tassativa che deve succedere nel mio 2024, e non posso fallire assolutamente, poi andando avanti abbiamo la macro argomento della salute, e l'ho voluto mettere ai primi posti, perché mi devo riprendere, mi devo riprendere, come vedete sono ancora abbastanza intasata dell'influenza che ho appena avuto, ma anche a novembre ho avuto il covid un'altra volta, che ci ha voluto tanto a riprendermi anche dal covid di novembre, quindi adesso basta ammalarsi, basta ammalarsi, mi voglio riprendere, voglio rinforzare le mie difese immunitarie, e già vi faccio vedere che cosa sto prendendo, perché non è una cosa sponsorizzata assolutamente, ma magari può essere utile soprattutto in questo momento per alcune persone, allora ho preso al supermercato questo, Bonomelli Immunity, e sono delle bustine da bere che aiutano il sistema immunitario, insomma a difendersi un po', l'organismo a difendersi meglio dai malanni, io l'ho già preso a malanno terminato praticamente, e spero che mi aiuti un po' a riprendermi, e queste sono le bustine da bere, esiste anche una versione che tra l'altro me l'avevate detto voi anche nei commenti, questa è la bustina da bere, è già pronta, l'aprite, io l'ho già presa stamattina, la prendo a metà mattina, la aprite e la bevete, sapore frutta, fruttato, sono un po' di ciuccini quelli che si bevano da piccoli, un po' dolcini, un po', talmente poco che è uno shot e va giù, esiste anche la versione quella da mettere in infusione nel tè, io in realtà tra l'altro me l'avevate scritto anche voi nei commenti sotto, mi pare il video quello dei tè delle tisane, non mi ricordo più chi me l'aveva scritto, me l'avevate scritto tanto che io l'avevo vista al supermercato, sono andata, non c'era, e infatti io volevo, ero partita con l'idea di prendere quella perché al pomeriggio mi faccio la tisana e perché no mi faccio una tisana immunity e bevo anche qualcosa di caldo, sono andata al supermercato, non c'era, c'era questo, ho preso questo, va bene lo stesso, va bene lo stesso e quindi sto prendendo appunto queste che sono 14 bustine per cercare di tirare, un po' su, tra l'altro vi do anche un'informazione molto gradita, c'è il buono sconto, c'era, l'ho presa già questa scatola in sconto al supermercato perché nello stand di Bonomelli ci sono anche altre, c'è quella vitality, c'è quella per la digestione, c'è quella per il sonno, con la melatonina, ci sono vari integratori, vari integratori insomma di questo, di questo marchio fatti così in bustina, c'era nello stand il coupon con un euro di sconto e quindi questi me li sono presi con un euro di sconto, ma poi mi sono accorta che anche dentro la scatola c'è appunto il foglietto illustrativo con il buono sconto da un euro, valido fino al 31-12-2024, quindi visto che comunque penso che sia una cosa standard che c'è in ogni confezione, una persona può andare avanti a prendere tutto l'anno per tutto il 2024 questi integratori con sempre con lo sconto, perché se lo trovate poi nella scatola, la prossima scatola vi ricordate di portarlo al supermercato e vi fanno lo sconto, quindi potenzialmente per tutto l'anno posso andare avanti a prenderle con un euro di sconto, vorrei provare, adesso vi dico velocemente che cosa c'è dentro qua perché c'è il resci, l'echinacea e l'altea e lo zinco, dice il resci che poi come il ganoderma eccetera fanno parte di questi funghi che sono molto buoni per il nostro organismo, e per il nostro sistema immunitario, ne aveva anche parlato giovanotti quando si era fatto male che aveva avuto l'incidente, io mi ricordo che ha fatto questo video dove beveva il resci, non so probabilmente lo aiutava nella sua appunto convalescenza, e quindi dice c'è il resci un fungo conosciuto per le proprietà benefiche contribuisce alle naturali difese dell'organismo e chinacea contribuisce alle naturali difese dell'organismo e alla funzionalità delle prime vie respiratorie, ci serve assolutamente, l'altea è una pianta con proprietà emollienti, contribuisce alla funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio, anche questo ci serve, lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, un po' in ritardo siamo, però fa niente, però cerchiamo di ricoperare, quindi mi sono insegnata appunto riprendermi da queste malattie, no eccessi, quindi cercare di non portare il mio corpo allo stremo con gli eccessi che possono essere, vabbè ormai gli eccessi eccessi io non ne faccio più, quindi non è che bevo troppo alcol, non faccio assolutamente uso di nessuna droga, non fumo, e quindi eccessi, l'ho messo un po' nel contesto di non portare il mio corpo allo stremo, quindi non stancarmi troppo, non prendere troppo freddo, non prendere troppo caldo, quindi non mangiare troppo, cioè questo è il no eccessi, sistema immunitario, e poi sempre nella tranche salute, ho scritto operare il fibroma, perché io ho, forse l'avevo già accennato questa cosa, io sulla gamba, nell'interno coscia, insomma, all'interno gamba, l'ho fatto vedere dal dermatologo, e mi pare che l'abbia chiamato un fibroma, è tipo un porro, però un po' più grande, sembra un po' una ciste, un po' a metà tra un porro e una ciste, che ormai è da anni che ce l'ho, ma non ho mai il coraggio di andare a operarla, perché quando sono andata dal dermatologo in ambulatorio, mi ha detto, no questa bisogna farla all'ospedale, cioè non posso fartela qui in ambulatorio, io vorrei, se potessi strapparmelo via da sola, lo farei, perché io di andare all'ospedale, ho una paura pazzesca, e niente, quindi sono andata avanti così, tenendomelo per tanti anni, mi dà sempre fastidio, soprattutto in estate, quando vado in costume, così che me lo vedo, eccetera, e quindi vorrei farlo entro questi primi mesi dell'anno, se mi viene il coraggio, vorrei fare questa cosa, anche perché poi lo so che poi in estate me ne pento, perché poi in estate non è tanto consigliato farlo, perché comunque se vado al mare, se mi devo spogliare, eccetera i punti, questo con l'altro non va bene, poi me ne pento d'estate, perché poi quando mi depilo un po' più spesso che d'inverno, magari prendo dentro con la lametta, mi dà fastidio, me lo taglio, perché succede, e si irrita, eccetera, quindi poi va a finire che arrivano i mesi estivi, e me ne pento di questa cosa, quindi vorrei cercare di farlo, fare questa cosa, poi passiamo alla categoria mente e corpo, che in realtà sono talmente tanto collegati, che però io anche questo l'ho già accennato, in un video passato, io vivo tanto nella mia mente, poco nel mio corpo, quindi devo cercare di vivere un po' più nel mio corpo, e un po' meno nella mia mente, senza trascurarla ovviamente, perché la mente è importante, è importantissima, quindi mi sono scritta vivere più nel corpo, quindi ascoltare di più il mio corpo, vivere più nel corpo, paradossalmente questo discorso l'avevamo fatto quando parlavo dell'olio, di idratarmi la pelle, di massaggiarmi, eccetera, che quindi questa cosa, dell'idratazione costante, quotidiana, possiamo chiamarla così, che poi se non la si fa tutti i giorni, non fa niente, però comunque frequente, quindi con un olio bello profumato, una crema, che ci fa sentire a nostro agio, eccetera, il fatto di massaggiarsi per idratarsi, mi fa connettere con il corpo, perché io non sono abituata a toccarmi, non sono abituata a farmi toccare, e infatti ho messo tra parentesi massaggio, chissà se durante l'arco di questo 2024, andrò a farmi per la prima volta, in un sacco di anni, un massaggio, cioè questo è un pochino un obiettivo, perché io da un po' di anni a questa parte, io prima facevo un sacco di trattamenti al corpo, poi mi è venuta questa cosa, che mi dà fastidio, mi sento a disagio essere toccata, mi dà fastidio appunto farmi massaggiare, non voglio che le altre persone mi tocchino, e quindi non vado più a fare queste cose, però mi piacerebbe, mi piacerebbe perché capisco che questo è un limite, e non va bene essere così, perché non devo mettere le spine, insomma, e quindi chissà, chissà se riesco a farmi fare un massaggio, senza dire, non toccarmi, in questo 2024, poi, muovermi, muovermi in generale, non ho messo obiettivi a andare in palestra, cominciare a fare questo, cominciare a fare quell'altro, anche perché io l'anno scorso mi ricordo tanto bene, che avevo detto, mi piacerebbe provare a fare Pilates sul Reformer, ecco, ho trovato un centro qua, anche abbastanza vicino a casa mia, a V-mercate, che fa, è specializzato in Pilates Reformer, a parte che penso che costi, uno sproposito, e poi c'è anche pure la lista d'attesa, per entrare, a farle questa cosa, quindi mi sono già, rotta, subito, ok, quindi ho detto, ok, no, e vabbè, rimane sempre una cosa, che mi piacerebbe provare, però, tutta questa cosa, di questo estremo, sovra, un po' sopravvalutata, questa cosa, quindi, questa esclusività, mi dà un po', mi dà un po' fastidio, a me mettermi in lista d'attesa, per fare le cose, sinceramente, anche no, e quindi, mi sono messa, ho scritto, muovermi, camminare, a me piace tantissimo, andare a camminare, voi lo sapete, c'è un percorso, qui vicino a casa mia, faccio quando c'è bel tempo, che c'è il sole, e la temperatura lo permette, io vado, cammino 5 km per volta, faccio i miei 5 km, quindi, aspetto con ansia, le belle giornate, per riprendere, a fare le mie belle pasteggiate, però, mi rendo conto, che devo fare qualcosa, anche, quando c'è il tempo brutto, quindi, io, mi sono messa a camminare, fare stretching, comunque, anche muovermi, a casa, ci sono dei, ho visto su YouTube, questa è una cosa, abbastanza, da pensionati, anzi, da più che pensionati, da anziani, però, ci sono questi, tutorial, che si chiamano, walk at home, e quindi, c'è tipo, camminata sul posto, si può fare in casa, o la cicletta, anche volendo, però, mi fa male, un po' il sederino, a fare la cicletta, bisogna iniziare, con tanta calma, a fare la cicletta, quindi, cinque minuti al giorno, finché non vi fa più male il sederino, quindi, è una cosa un po' lunga, quindi, vorrei fare, anche appunto, questi, iniziare a fare questi, walk at home, questi allenamenti, di camminata sul posto, a casa, da vera 85enne, quale sono, che sto facendo, per il punto coach, nel mentre, no? E quindi, muovermi, l'importante è, comunque, muoversi, perché mi rendo conto, io, di essere sempre, molto statica, ok? Poi, vabbè, per, per quanto riguarda, la sfera della mente, per curare la mente, ho scritto, meditazione, e post, podcast, di crescita, i podcast, li sto già, sentendo, perché come vi avevo detto prima, mentre faccio il punto croce, mi piace ascoltare i podcast, mi piace tanto ascoltare i podcast, di, eh, crescita personale, ma, non tanto di guru, e mica guru, ma, più di persone, eh, magari medici, o comunque persone, professionisti, in quello che fanno, eh, eccetera, c'è un, se parlate, capite bene l'inglese, c'è un canale, che si chiama, Diary of CEO, eh, questo ragazzo inglese, che è veramente, molto, molto bravo, a fare le interviste, lui ogni settimana, eh, accoglie, nel suo studio, eh, un professionista, che può essere un neurologo, un cardiologo, un esperto di fitness, un, un neuroscienziato, eccetera, e gli fa l'intervista, e si scoprono, cioè, si imparano tante, tante cose, per esempio, ho apprezzato tantissimo, il, quando è venuto, il, il dottore del cervello, che è il dottor Amen, quello che ha, le cliniche Amen, e, e quindi, studia il cervello, eccetera, per, per come prenderci cura del nostro cervello, oppure, quando è venuto l'esperto del sonno, che ha dato tante, tanti consigli, per, eh, imparare a dormire meglio, ok, e, e quindi, mi ascolto tutti questi podcast, che, mi danno, una crescita, manan, di, tipo, manifestare, se ci credi, sia vera, e tutte quelle cose di no, più, una crescita, come informazioni, come informazioni, e, eh, cose che posso tradurre, nel mio, nel mio quotidiano, e, meditazione, mi piacerebbe ricominciare, a meditare, l'avevo detto anche l'anno scorso, ma, eh, ne ho fatta ben poca, di meditazione, però io, lo scrivo sempre e comunque, perché, è sempre una cosa che, ehm, che fa bene, e, e niente, ho scritto appunto, curiosità, perché io, se vi posso augurare una cosa, è quella di rimanere sempre curiosi, se vi incuriosisce qualcosa, se vi volete approfondire un argomento, siate curiosi, perché, io sono, ehm, sostenitrice che, sapere, è potere, quindi, knowledge is power, più si sa, più si ha potere, ma si ha potere, non potere sopra gli altri, potere, di intelletto, ok, di cose che si sanno, ed è sempre bello sapere le cose, quindi, io vi auguro di essere curiosi, vi auguro di essere curiosi, non stare sempre a scrollare, le cavolati, quello lo faccio anch'io, però, se vi incuriosisce qualcosa, un argomento, leggete, leggete, e, ehm, informatevi, informatevi, ok, poi, prendermi il mio tempo, prendermi il mio tempo, questa è una cosa che ho cominciato a ragionarci, ehm, praticamente, quasi alla fine dell'anno, quando sono andata in vacanza, perché voi sapete che io ho fatto due vacanze, quest'anno al mare, una che è andata un po' meglio dell'altra, perché la prima vacanza che ho fatto, io mi sono resa conto, che mi sono resa conto proprio in quello specifico momento che adesso vi dirò, io praticamente ero al mare, stavo scendendo in spiaggia, e io superavo le persone sulla passerella, cioè, non avevo assolutamente niente da fare, non stavo, e non ero in ritardo per nessun appuntamento, stavo andando al mio ombrellone, e io superavo le persone sulla passerella, e lì ho detto, sì, sì, calma, calma, perché a me, anche se non ho niente da fare, a me mi sembra sempre di correre da tutte le parti, forse questa è un po' una prerogativa per chi vive in Lombardia, questa cosa, ma, appunto, prendermi il mio tempo, quindi, quando non va, io sono una persona che sono abbastanza puntuale, sempre quando ho qualcosa da fare, vado anche, vado un po' in menata, perché non voglio arrivare in ritardo, sono abbastanza efficiente, organizzata, questo e quell'altro, però, quando, voglio iniziare a prendermi un po' il mio tempo, quando non va a inficiare sulle altre persone, ok, quindi, quando sono in giro da sola, che devo fare le mie cose, posso fare anche con calma, e non correre in giro avanti e indietro come una pazza, ok, perché tanto non mi corre dietro nessuno, quindi cercare di prendermi il mio tempo e calmarmi un attimo, calma, keep calm, poi, andiamo avanti e passiamo a quest'altro macro argomento, che per me, in realtà, è un tasto dolentissimo, che è l'amore, l'amore, io sono veramente molto confusa su questo argomento, sono più confusa che mai, e provo anche un po' di sentimento di rabbia verso l'amore, vi devo dire la verità, non mi vergogno a dirlo, provo rabbia verso l'amore, e quindi quest'anno, io voglio capire che cosa voglio, cioè, vorrei capire, anche se magari, da una parte non voglio neanche servellarmici troppo, perché io comunque sono una persona che sono da sola da tanti anni, sto veramente tanto bene da sola, e quindi vorrei capire se ogni tanto mi viene voglia, mi viene voglia di provare ad avere qualcuno, quindi magari vado, faccio qualche appuntamento che va male, e poi dico, no, basta, chiudo lì la storia, la questione, ho capito che sto benissimo da sola, non voglio nessun uomo, e quindi vado un po' così a cicli, e quindi io non butto fuori l'informazione giusta, ok, quindi vorrei cercare di capire, senza però cervellarsi troppo, che cosa voglio, perché a me veramente, stare da sola non mi pesa, cioè almeno la maggior parte di giù, il 90% del tempo non mi pesa, e quindi vorrei capire appunto che cosa voglio, mi sto un po' incartando in questo argomento, però penso e spero che avete capito, io comunque sono aperta a conoscere persone, e a fare appuntamenti, di solito mi scongio, anche se in quest'ultima parte dell'anno, devo dire che negli ultimi due mesi del 2023, ho fatto tutto quello che non ho fatto, nel corso dell'anno, nell'ambito degli appuntamenti, sono andati male tutti ovviamente, però nel senso, sono aperta a conoscere persone, a uscire in appuntamento, di solito mi scongelo un po' più verso la primavera, quando comincia ad arrivare tipo marzo-aprile, mi viene voglia di uscire con qualcuno, sarà il tempo, sarà la temperatura, non lo so, mi scongelo, adesso sono ancora un po' eletargo, anche se, come vi ho detto, novembre-dicembre ho fatto faville, però sono aperta appunto a conoscere persone, senza farmi troppe pressioni, anche su questo argomento, perché ho tanto in me stessa da chiarire, e tanta rabbia un po' da scaricare, andiamo avanti che è meglio, perché questo è veramente un argomento che, cioè stare qui a parlare nonsense per ore, non so neanche se mi sono espressa bene, creatività, creatività, quando finirò di fare questo benedetto punto croce, io voglio veramente iniziare a fare i braccialetti, lo so che l'avevo detto anche all'inizio 2023, non ho fatto niente, praticamente, avevo anche comprato le perline di vetro per fare le prove, quindi per cominciare a fare dei braccialetti, fare le prove, quindi senza iniziare a prendere le pietre, e a farle così di prova, non ho fatto niente alla fine, e quindi quando finirò di fare il punto croce, voglio dedicarmi a questa cosa, perché ho detto che io non mi voglio più comprare i braccialetti, man mano che mi si rompono i miei, voglio farli io, voglio creare i miei braccialetti io con le mie pietre che voglio, quindi comprare il filo di pietra e fare il mio braccialetto, quindi voglio iniziare a fare i braccialetti sicuramente, e voglio continuare a colorare, voglio continuare a colorare, perché è una cosa che mi dà, è anche una cosa abbastanza meditativa, che mi dà gioia a colorare, mi piacciono, l'avete visto anche nel video dei regali di Natale, io faccio la collezione dei libretti, quelli di coloring book, quindi voglio colorare, voglio ritagliarmi anche del tempo per fare quello, e questa cosa del punto croce mi piace molto, senza essere sotto pressione, mi piace anche fare il punto croce, la trovo veramente una cosa meditativa, è una cosa che veramente vi tira via tantissimo tempo, vi occupa tantissimo tempo, tantissime ore, però è molto bello fare anche il punto croce, mi piace, magari più avanti nella mia vita, tanto visto che comunque sono capace, è una cosa che riesco a fare, più avanti nella mia vita, non escludo di finito questo progetto, di fare qualcos'altro, ma per ora vorrei dedicarmi a braccialetti e colorare, siamo arrivati praticamente alla fine, e concludiamo con YouTube, concludiamo con YouTube, e io sono veramente molto contenta di come è andato il 2023, non ho rispettato ovviamente l'obiettivo che mi ero dato, era un po' ambizioso, l'obiettivo era quello di arrivare ai 3000 iscritti entro Natale, quindi entro la fine dell'anno del 2023 più o meno, non sono riuscita ad arrivare a quell'obiettivo, era veramente abbastanza ambizioso, però sono molto contenta del lavoro che ho fatto, sono molto contenta del riscontro che ricevo sempre da voi, anzi io vorrei arrivata a questo punto anche ringraziarvi per tutti i messaggi sempre positivi che mi mandate, non solo sotto i video ma anche in privato, mi arrivano sempre un sacco di messaggi che io leggo, che sono veramente, cioè io vi ringrazio veramente di cuore, a volte non ci credo, dico ma queste persone stanno guardando me o stanno guardando qualcun altro, appunto dico queste persone stanno guardando me o stanno guardando qualcun altro, cioè mi sembra sempre di non meritarvi la vostra gentilezza, e quindi io vi ringrazio per tutto il supporto sempre che mi date e rinnovo appunto il fatto di continuare a fare contenuti, cercherò di fare due video settimana, ma comunque se non riesco uno sicuramente, quindi in base anche un po' alle idee, alle nuove idee che ho, ai vlog eccetera, alla mole un po' di contenuti e di idee che mi vengono, rinnovo il fatto di arrivare ai 3.000-3.500 iscritti per quest'anno, e in questo voi vi potete aiutare, mi potete aiutare soprattutto iscrivendovi se non l'avete ancora fatto, perché se siete arrivati a questo punto e non siete ancora iscritti, cioè io vi vedo, cioè non fate gli indiani, iscrivetevi per forza, dopodiché potete aiutarmi mantenendomi viva nell'algoritmo di YouTube, e quindi mettendo sempre il like, facendo un commentino, che quindi così si vede che comunque il canale è attivo, c'è gente che parla, c'è fermento, e quindi magari YouTube riesce a mandarmi in qualche algoritmo ed essere un pochino più visibile, visibile, quindi voi potete aiutarmi in questo, se avete anche qualche amica a cui consigliarmi, quindi potete spammare, vi do il permesso di spammare i miei video dove volete, di condividermi con le vostre amiche, se pensate che posso fare contenuti che gli possono piacere, e quindi niente, quindi vorrei continuare a crescere con questa cosa, mi auguro quest'anno di fare ancora delle collaborazioni, con varie aziende, chi vorrà collaborare con me e mandarmi i loro prodotti, da provare, da farci una recensione, mi fa sempre molto piacere questa cosa, e quindi niente, quindi per quanto riguarda la sfera del canale, è questo, quindi io vi ringrazio ancora, questi erano miei, quello che vorrei migliorare un po' per il mio 2024, vogliamo chiamarli buoni propositi, chiamiamoli buoni propositi, ma ragazzi ve l'ho detto, sempre con calma, senza farsi troppa pressione addosso, perché ci pensa già la vita, a metterci addosso fallimenti, e a buttarci giù, non facciamolo anche noi, quindi io per concludere, non l'ho scritto, ma mi sta venendo in mente adesso, essere un po' più gentile con me stessa, e questo ve lo auguro anche a voi, siate gentili con voi stessi, per quello che ho appena detto, va bene, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, like di supporto, sentiamoci quest'attore nei commenti, fatemi sapere i vostri buoni propositi, per il 2024, io vi bacio, e noi ci vediamo prestissimo, con altri contenuti, sperando che questa tosse, mi sia passata, ciao!